Ciao Bebi, come stai? No, parla dei carni Complimenti Mi botto dei bistecchi Sì, buono Ciao Ciao Bebi Panni, come stai? Tutto bene? Tutto bene, tutto bene Bene, bene, bene Mi ha scritto Rubino in un momento in cui stavo praticamente completamente nuda sul letto a fare nulla, forse più o meno In che senso? Se puoi andare un po' più a fondo Cioè non che mi interessa Stavo controllando se andasse tutto bene nel mio apparato riproduttore Ti stavi masturbando Certo E quindi Rubino è un po' interrotto questo momento No, no, ho finito Apposto che ho messo tanto Ma hai lavato le mani dopo? Io pure Sì Sì, dopo che sei entrato in live Non è che te l'ho detto Sì Vabbè, ragazzi io vado Bene Bene, 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 bene Ma senti Bebivano Ciao a tutti Buongiorno Buongiorno Buongiorno